Musica Salve amici del Centrometro Italiano Entro il weekend vasto anticiclone in rimonta sull'Europa mentre a seguire l'evoluzione si fa decisamente più incerta Passaggio instabile sull'Italia nei prossimi giorni con precipitazioni sparse prima al nord e poi al centro sud Entro venerdì clima più freddo con temperature anche di 5 gradi al di sotto delle medie Principali modelli confermano nel terzo weekend di dicembre un vasto e robusto campo di alta pressione sui settori occidentali del continente Condizioni meteo più asciutte e clima più mite anche sul Mediterraneo con temperature nuovamente sopra media A seguire evoluzione incerta con diversi modelli che propongono affondi freddi verso l'Europa Trattandosi comunque di tendenze seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube Un saluto da parte del Centrometro Italiano Un saluto da parte del Centrometro Italiano